Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale, io sono Luca e oggi andiamo a parlare di pH, calce sodata, redox, intercambio bassoso, insomma tutto quello che abbiamo visto praticamente negli ultimi video del canale. E dentro video! Eccoci qui nuovamente con una presentazione, ragazzi oggi vediamo insieme che cos'è il pH, i vari fattori che fanno soprattutto abbassare il pH e come possiamo risolvere questi problemi di pH a basso. Vorrei partire innanzitutto dicendo che il pH ci interessa, a noi acquariofili marini che alleviamo soprattutto coralli e soprattutto coralli SPS e Agropora che è un fattore importante nella nostra vasca perché ci può indicare un buon livello di, non di qualità dell'acqua ma per avere una migliore scheletogenesi e di conseguenza calcificazione dei coralli, quindi stiamo parlando di crescita. Va bene, intanto diciamo che cos'è il pH? Il pH ragazzi non è altro che un indicatore di concentrazione di ioni di idrogeno che nel nostro caso specifico sono presenti nell'acqua. Non stiamo parlando altro che di P come potenziale e H come ioni di idrogeno P potenziale perché è un operando, il pH diciamo che ha una funzione logaritmica che va in base 10, quindi ogni volta che il pH diciamo, o meglio, la nostra masca diventa più acida o più basica, dipende appunto dalla scala, il pH scenderà di un punto. Nel caso in cui appunto l'acqua diventasse 100 volte più acida di quello che già abbiamo stiamo parlando appunto di un pH che scende di due punti. Per capirci bene ragazzi, ovviamente come sappiamo il pH è diviso fra neutro che è solitamente un 7, basico e acido dove è basico appunto abbiamo un pH molto più alto e quindi meno concentrazione di ioni di idrogeno e acido dove appunto c'è una maggiore concentrazione di ioni di idrogeno. Come vi dicevo, se il pH, siccome è una funzione in base 10, se appunto l'acqua diventa 10 volte acida rispetto al 7 neutro abbiamo un 6 di pH, mentre se diventa 100 volte più acida rispetto al neutro 7, avremo un pH di 5. Questo per capirci un po' e capire anche come funziona il pH sotto questo punto di vista. Molte volte ragazzi sentiamo parlare di effetto buffer o effetto tampone che permettono di mantenere un pH stabile soprattutto molte volte si parla di kh, ok di durezza carbonatica, però c'è da fare una piccola distinzione fra quello che davvero è l'effetto tampone o buffer che permette di mantenere un pH stabile che non è solo il pH, però è anche il pH e quello che è l'alcalinità della vasca, ok? Nel nostro caso ovviamente specifico perché stiamo parlando di acquario marino. L'alcalinità ragazzi non è altro che il complesso di tutti i bicarbonati e carbonati presenti all'interno della vasca non solo il pH e calcio che fanno parte della durezza carbonatica ma anche di solfati, borati e soprattutto idrossido, ok? Quindi l'alcalinità comprende tutti questi elementi. Mentre la durezza carbonatica solitamente comprende appunto solo la durezza di calcio e il pH. Come vedete c'è scritto qui che assorbono gli acidi e proprio per questa loro forza di assorbire gli acidi hanno questo effetto buffer, però adesso lo andiamo a vedere nello specifico, ok? E solitamente diciamo quando abbiamo pH bassi tendenti al 7.8-7.9 dobbiamo essere sicuri di mantenere in vasca un kph e un calcio intorno ai 7.5 di kph e calcio intorno a 400 in modo da avere questo effetto buffer o tampone, va bene? E mantenere il pH quanto più stabile possibile. Una cosa interessante è capire che a quanto meno alcalinità abbiamo in vasca maggiori effetti di un pH instabile avremo in vasca mentre a un'alcalinità più alta avremo un pH che difficilmente si può cambiare, ok? Quindi data questo forte assorbimento degli acidi che hanno appunto l'alcalinità e le durezze carbonatiche possiamo avere più facilità o più difficoltà a modificare il pH all'interno della vasca. Detto questo ragazzi, il pH come dicevo ci interessa per la calcificazione o la scheletogenesi dei coralli. come vedete qui abbiamo il simbolo del bicarbonato e del calcio e diciamo in questa piccola fase rappresentiamo i bicarbonati presenti all'interno della vasca e il calcio. Il bicarbonato ovviamente come vedete è composto da idrogeno soprattutto e questo idrogeno ci interessa perché adesso andiamo a vedere qual è la reazione che sfruttano i nostri coralli, ok? per effettuare la calcificazione appunto dello scheletro. Cosa succede ragazzi? Che il carbonato e il bicarbonato vengono combinati per avere un carbonato di calcio ok adesso andiamo a vedere questa tabella per avere il carbonato di calcio che il corallo appunto sfrutta per questa calcificazione. il problema qual è? Che quando sfruttano o meglio fanno precipitare questo carbonato di calcio per effettuare la scheletrogenesi perché il polivo diciamo del corallo assorbe proprio prima il calcio poi l'HCO3 e lo converte perché precipita per la scheletrogenesi in carbonato di calcio quello che libera è un ione di idrogeno. però come stavamo dicendo il pH quello che misura è l'idrogeno, gli ioni di idrogeno in vasca avendo idrogeno diciamo essendo carico il corallo di idrogeno se all'esterno c'è un pH basso e quindi una alta presenza di ioni di idrogeno all'interno dell'acqua il corallo avrà più difficoltà a liberare questo idrogeno per diciamo crescere ok perché anche l'idrogeno inibisce la crescita. scusate sono andato troppo avanti torniamo indietro come vedete diciamo c'è questa piccola questo piccolo grafico che ci fa capire un po' diciamo quanto è importante sia la CO2 in vasca che appunto avere un livello buono di pH perché? perché come vedete a maggiore quantità di CO2 abbiamo un pH minore ovviamente questo già lo sappiamo chi ha fatto anche acquascaping di acqua dolce già sa che appunto a una maggiore CO2 in vasca il pH si abbassa però appunto quando iniziamo a vedere questo abbassamento di CO2 abbiamo un innalzamento dei bicarbonati ok quindi in questo caso del kh e il pH anche è in un livello di più o meno 8 si calcola appunto che sia fra 7.8 e 8.4 dove l'ideale è 8.2 ma comunque i valori fra 7.8 e 8.4 comunque sono positivi per la vasca l'importante è non scendere troppo il 7.8 e non salire troppo l'8.4 e appunto dove vedete che ci sono più bicarbonati è quello che poi ci aiuta a mantenere un pH stabile perché appunto i bicarbonati fanno effetto tampone sul pH e soprattutto abbiamo una bassa quantità di CO2 cosa che ci fa mantenere il pH stabile perché anche come abbiamo detto la CO2 impatta sul pH a maggiore quantità di CO2 avremo un pH più basso ok per capirci qualcosa di più sempre relativo all'CO2 quando abbiamo una CO2 alta in vasca quello che si produce soprattutto è acido carbonico ok l'acido carbonico non è altro appunto che un acido che viene che si forma in acqua tramite la CO2 e l'acqua appunto e siccome prima come vi stavo dicendo l'alcaninità e il KH assorbono gli acidi ok che abbiamo in vasca quello che succede è che per assorbire questi acidi in eccesso tipo come l'acido carbonico il KH tende a scendere perché perché appunto c'è questo assorbimento di acidi e se il KH tende a scendere con la CO2 alta in vasca quello che succede è che abbiamo anche un abbassamento di pH perché perché la CO2 genera acido carbonico il KH assorbe gli acidi il pH si abbassa perché c'è CO2 all'interno della vasca ma si abbassa anche perché il KH non è più capace di effettuare quell'effetto tampone di cui stavamo parlando prima ok quindi non è capace di stabilizzare il pH ad un valore anche in presenza di CO2 ovviamente quello che ci interessa a noi è mantenere la vasca con poca CO2 perché in questo caso appunto quando abbiamo poco CO2 c'è sempre dell'acido carbonico in vasca ma il KH sarà capace di assorbirlo senza diminuire quindi non sarà diciamo consumato questo KH e questa alcanità che abbiamo in vasca dall'acido carbonico in questo caso e di conseguenza avremo un pH più alto o comunque stabile diciamo rispetto appunto ad avere più CO2 in vasca e un KH instabile soprattutto molto molto basso un'altra cosa da considerare ragazzi è l'attività dei batteri e gli acidi che generano i batteri come sappiamo noi abbiamo in vasca in maniera perpetua il ciclo dell'azoto e tutta questa conversione da NH3 e NH4 a NO2 e poi NO3 quello che generano è acido nitrico che è uno scarto della loro decomposizione del loro processo biologico quindi generano questo acido nitrico l'acido nitrico diciamo è sempre un acido quindi se c'è KH all'interno della vasca abbiamo un assorbimento di acidi da parte del KH e dell'alcanità di conseguenza il KH si abbassa o la disponibilità per annullare questo effetto di questo acido diminuisce e di conseguenza quello che succede è che si abbassa il pH quindi anche quando si fa riproduzione batterica si deve stare attenti al pH e al KH soprattutto perché appunto possiamo avere queste oscillazioni sia di KH che di pH perché in seguito allo sviluppo biologico che effettuano questi batteri generano acido nitrico e di conseguenza appunto possiamo avere abbassamenti di KH e di pH quindi anche quando facciamo riproduzione batterica o mettiamo batteri in vasca o qualsiasi altra forma diciamo di riproduzione batterica appunto come il metodo della zeolite c'è appunto da essere attenti in questi casi per quanto riguarda il KH e il pH un'altra sostanza che tende a farci abbassare il KH e il pH all'interno della vasca è la vitamina C la vitamina C ragazzi viene usata soprattutto per il sistema immune sia dei pesci che dei coralli e anche per il tessuto dei coralli solitamente si mette una goccia in vasca o nel cibo dipende però appunto questo diciamo aiuta i coralli per il loro sviluppo e sistema immunologico che si mantenga diciamo in maniera corretta però che succede? che quando aggiungiamo vitamina C all'interno della vasca si abbassa il pH perché anche questo è un acido e di conseguenza ci tende ad abbassare il pH e un consiglio che vi posso dare per quanto riguarda la vitamina C è di effettuare il dosaggio della vitamina C quando termina il fotoperiodo della vasca perché? perché si calcola appunto che a fine fotoperiodo della vasca diciamo le alghe ok? se avete un refugium o comunque le alghe in vasca e tutti i processi appunto di fotosintesi che portano avanti i coralli a fine fotoperiodo abbiamo una minore concentrazione di CO2 rispetto per esempio a un fotoperiodo diciamo appena iniziato o direttamente la notte quindi si consiglia di inserire la vitamina C a fine periodo in modo da avere di non avere una troppa discesa del pH perché appunto c'è già poca presenza di CO2 quindi si riesce a stabilizzare in quella maniera un'altra forma ragazzi di mantenere il pH stabile e anche il pH è l'uso di idrossido di calcio o vabbè come è conosciuta anche come kalkwasser che succede? che l'idrossido di calcio quando lo inseriamo in vasca e soprattutto se lo inseriamo in vasca vi consiglio di utilizzarlo attraverso diciamo l'aggiunta lenta in vasca perché appunto dobbiamo dare il tempo all'idrossido di calcio di fare reazione con la CO2 presente in vasca solitamente l'idrossido di calcio viene aggiunto tramite il sistema di rabbocco avete un sistema di rabbocco con acqua di osmosi si aggiunge idrossido di calcio si scioglie vabbè comunque ci sono parecchie informazioni in rete nel caso vi interessi cercate come funziona l'idrossido di calcio però quello che ci interessa sapere è che l'idrossido di calcio fa reazione con la CO2 e questa CO2 diciamo questa reazione genera bicarbonato ok? quindi abbiamo di nuovo il bicarbonato in vasca questo bicarbonato fa effetto tampone e di conseguenza il KH si alza si alza sia il KH che il pH diciamo si tende a mantenere stabile il problema con l'idrossido di calcio qual è? è che appunto come vi dicevo deve essere un dosaggio lento perché dobbiamo dare il tempo all'idrossido di calcio e alla CO2 presente in vasca di fare reazione e di generare bicarbonati se andiamo troppo veloci con l'aggiunta di idrossido di calcio in vasca quello che avremo è una precipitazione di calcio o diciamo un innalzamento del calcio in vasca perché siccome se aggiungiamo troppo velocemente idrossido di calcio la CO2 viene consumata rapidamente e quello che succede appunto è che non c'è più CO2 a effettuare reazione quindi a darci bicarbonato e quello che ci darà sarà carbonato di calcio perché appunto non c'è più questa CO2 a fare reazione e a legare l'ione di idrogeno in questa maniera non alziamo né pH né nulla l'unica cosa che facciamo è avere appunto o una precipitazione di calcio o aumentare semplicemente i valori di calcio e KH all'interno della vasca cosa che non ci interessa fare un'altra cosa importante ragazzi riguardo l'idrossido di calcio è che abbassa il P4 questo è verissimo che ci tende a far abbassare il P4 però ci fa abbassare anche il magnesio e lo stronzio quindi se dosate idrossido di calcio state attenti a questi parametri cercate di mantenerli stabili magnesio e stronzio soprattutto e ovviamente ci interessa che elimini il P4 però appunto dovete comunque mantenere dei livelli stabili di magnesio calcio stronzio e KH per far sì che ci sia anche un boom pH all'interno della vasca altro metodo ragazzi per quanto riguarda l'assorbimento di CO2 in vasca e aumentare il pH ma anche il redox così ci colleghiamo anche al video precedente è l'uso di calce sodata che cos'è la calce sodata forse già l'avete sentito forse non direttamente con questo nome ma con qualche nome sicuramente di qualche marca acquariofila tipo Carbon X della marca ATI pure fa anche fa un prodotto simile però ci basti sapere che è calce sodata che non è altro ragazzi che un misto chimico di idrossido di sodio e idrossido di calcio ok quindi sono questi due idrossidi che come vedete ha questa forma solida sferica e la calce sodata ragazzi non è altro che un materiale che si usa prettamente con fini medici per eliminare la CO2 praticamente l'aria entrando a contatto con questo materiale riesce questo materiale a filtrare tutta la CO2 contenuta in quest'area e rilasciare solo ossigeno quindi molte volte la calce sodata è utilizzata come dicevo per fini medici quando per esempio fanno le anestesie totali perché appunto attraverso l'assorbimento di CO2 quando ci mettono una mascherina per per l'anestesia noi respirando produciamo CO2 e quella CO2 viene assorbita da questa calce sodata o in alternativa anche viene utilizzata nelle bombole da sub quando facciamo immersioni e abbiamo le bombole da sub all'interno ci sono dei piccoli dei piccoli cofanetti di calce sodata che appunto quando noi respiriamo sott'acqua con il bocchettone del di respirazione per quando riguarda appunto le bombe di ossigeno questa calce sodata filtra la CO2 che noi produciamo respirando e ci rilascia solo ossigeno detto questo come abbiamo capito filtra la CO2 quindi è importante ci serve bene perfetto come si utilizza con il nostro acquario marino come vedete qui abbiamo un reattore fai da te questo è un reattore che fai da te ragazzi l'unica cosa che ci interessa sapere è che dobbiamo avere una salita d'aria e un ingresso d'aria in questo contenitore l'aria entra da sotto ok passa per tutta la calce sodata e poi esce da questo tubicino quindi tutta l'aria che questo tubicino aspira e adesso vediamo come lo aspira passa da sotto e passa attraverso tutta la calce sodata ok che succede che passando attraverso tutta la calce sodata arriva in questo tubicino e questo tubicino ce lo deve mandare da qualche parte ok dove ci arriva questo tubicino questo tubicino si deve attaccare su questa parte dello skimmer che non è altro che in questo caso il silenziatore che è poi attaccato al tutto il sistema aventuri dello skimmer ok quindi questo tubicino qui va attaccato qui sopra una volta che si attacca qui sopra appunto lo skimmer attraverso il sistema aventuri richiama l'aria e abbiamo solo inserimento di ossigeno perché la CO2 viene assorbita dalla calce sodata come vi dicevo ragazzi non c'è bisogno di comprare calce sodata di prodotto da una marca acquariofila marina perché la troviamo in commercio tranquillamente anche appunto su grandi litraggi con poco costo quindi possiamo prendere qualsiasi che sia uso medico forse non cambieranno tutte di colore ma anche se non cambiano di colore perché la calce sodata quello che fa soprattutto quelle di uso acquariofilo cambiano colore per indicarci se sono consumate o no ma questo è una chicca in più diciamo che vi fa capire se diciamo dovete sostituire la calce sodata o no ma se avete un calce sodata in vasca e attaccate la calce sodata allo skimmer sicuramente avete un controllore di pH in vasca e quindi quando vedete che il pH sta scendendo dovete cambiare la calce sodata è molto semplice quindi tralasciando la cosa che cambia colore appunto possiamo comprare tranquillamente anche uno di uso a uso medico e la possiamo inserire in un reattore come questo qui questo è un tipo un esempio di reattore ma si possono fare reattore a go go tanto abbiamo capito come funziona sotto passa l'aria e passa attraverso tutta la calce sodata e poi appunto da un tubo arriva all'interno dello skimmer e come vi dicevo questo ci aiuta ad assorbire la CO2 di conseguenza abbiamo un innalzamento del pH e un innalzamento del redox proprio per quello appunto di cui parlavamo sia la volta scorsa nello scorso video per quanto riguarda il redox ma anche in questo video per quanto riguarda il pH quindi la calce sodata può essere utilizzata appunto per far sì che abbiamo un pH sempre costante all'interno della vasca un redox anche alto e una minore CO2 all'interno della vasca questo ci aiuta molto per appunto la crescita dei coralli e anche l'ossidazione in vasca una cosa interessante che si è notato che facendo delle o meglio mettendo nei reattori dosi più piccole circa 500 grammi di prodotto all'interno dei reattori ok come questo qui si hanno risultati migliori all'interno delle vasche mettendo un litro di prodotto è valido come cosa però ovviamente dipende anche dalla grandezza della vasca però calcolando un promedio di 200-300 litri con mezzo litro di prodotto è più che sufficiente per portare la vasca anche la sera a un pH stabile di 8.3 e più o meno con una durata del prodotto di 1-2 mesi dipende ovviamente dalla quantità di CO2 che assorbe questa resina ok questa calce sodata una cosa interessante è anche che appunto si può attaccare un'elettrovalvola di CO2 all'interno appunto di questo reattore perché possiamo mettere appunto un'elettrovalvola che quando detecta CO2 ci stacchi diciamo la calce sodata e non metta più calce sodata all'interno della vasca o al contrario si può mettere un'elettrovalvola che quando nota che il pH scende ci apre il condotto d'aria della calce sodata e inizia a filtrare aria e quindi mettere ossigeno in vasca senza CO2 e nada más gente spero che vi sia stato utile questo video che sia chiaro un po' il tutto scusate come sempre un video lungo io quando faccio i video lunghi youtube ovviamente me li blocca quindi non tutti gli iscritti vedranno questo video però spero che lo condividiate con quanta più gente possibile e spero soprattutto che l'informazione vi sia stata utile e nada más gente ci vediamo al prossimo video wow